È alla casa circondariale di Caltanissetta che ieri un poliziotto è stato aggredito da un detenuto che non ha accettato di rispettare le regole per effettuare la videochiamata con i propri familiari. L'uomo, con precedenti segnalazioni per problemi psichiatrici, avrebbe inizialmente offeso e oltreggiato il poliziotto e poi improvvisamente si sarebbe scagliato contro di lui con pugni e calci. Trasferito al pronto soccorso del Sant'Elia, il poliziotto è stato sottoposto ai dovuti accertamenti sanitari alle cure dei medici. È stato poi dimesso con una prognosi di 25 giorni. Si tratterebbe dell'ennesimo episodio in Sicilia, sottolinea il segretario nazionale Pol Giust, Francesco Davide Scaduto. In una sua dichiarazione spiega come gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria siano troppo spesso vilipesi e aggrediti. Situazione che sembra in costante crescita in Sicilia, dove ormai il personale del corpo è ridotto ai minimi termini. Già le aggressioni avvenute a Trapani giorni fa e ieri quella del Nisseno portano alla richiesta di interventi incisivi da parte dell'amministrazione penitenziaria e sottolinea il segretario di Pol Giust. La necessità di un intervento da parte della regione siciliana dovrebbe essere mirata all'ampliamento del numero delle REMS regionali e all'incremento delle ore di specialisti sia psicologi che psichiatri all'interno dei penitenziari siciliani.